Amici, spesso non valorizziamo le fortune del nostro territorio. La Calabria è una terra difficile e bistrattata e nonostante i quotidiani sforzi della nostra classe politica non riusciamo a valorizzarla a pieno. Ma non servono solo le futili e strumentali critiche. Occorre dare i giusti meriti e i giusti riconoscimenti a chi, con spirito di abbenegazione, sacrificio e dedicandosi completamente al bene comune, riesce a migliorare le cose, riesce a rendere ospitale il nostro territorio, a far affluire i turisti e a farli sentire a casa propria, a farli sentire a loro agio. A volte la politica regala degli smacchi amari. Abbiamo visto ora questi deprecabili risultati delle campagne elettorali, specie nell'ultima tornata per le europee. Davvero sono successe delle cose incredibili, nonostante una campagna elettorale partecipata, appassionata, coinvolgente. Come coinvolgente è la politica del nostro territorio. Ora però basta critiche, basta strumentalizzazioni. Bisogna rendere omaggio a chi, come dicevamo con grande spirito di sacrificio, rende più ospitale il nostro territorio. Guardate qui, cosa abbiamo scoperto? Perché a volte le cose più belle non sono neanche tanto pubblicizzate. Corigliano Calabro, una terra da amare, ufficio turismo, ospitalità e spazzatura. Naturalmente la collaborazione con l'Expo è qualcosa che va ad impreziosire gli sforzi di chi 24 ore su 24 si impegna per noi, per noi cittadini. Orario di lavoro sono instancabili, a fatica guerrare chi morte. mattino dalle 9 fino alle 9.05, instancabili e senza pause. Naturalmente l'Expo c'entra e come, pomeriggio ci si alterna tra ferie e malattie. Ma di che cosa stiamo parlando, cari amici? Siamo sul lungomare di Schiavonea, siamo in località Fabrizio. Il ponte delle meraviglie è questo, il ponte con un'inferriata che manca, con una striscia di nastro rosso e bianco messo solo dopo qualche nostro servizio. Inferriata no, solo un po' di nastro. Ma andiamo a vedere il salottino che si offre ai turisti che tra poco affolleranno questa contrata. Questo è uno spettacolo, guardate il colore del nostro mare, ma guardate come valorizzare questa zona. Qui veramente c'è buon governo, qui c'è attenzione per questo territorio, qui non ci sono parole al vento o critiche. Si vuole bene a questa città e i miglioramenti si vedono di giorno in giorno. È una porta sul Mediterraneo, l'abbiamo detto molte volte. È una porta sul Mediterraneo e bisogna saper valorizzare quanto di buono offre il nostro territorio. Naturalmente, cosa dire, complimenti. Secondo noi ci vorrebbe anche un'altra valorizzazione. Fare delle analisi cliniche sul nostro mare, sulle nostre acque, perché secondo me siamo a livelli veramente incredibilmente salutari. Non vi facciamo vedere il colore di queste acque che arrivano nel nostro mare. Preferiamo non farvelo vedere per questa volta. Dall'ufficio, torniamo perché effettivamente bisogna rendere omaggio a chi lavora con competenze e capacità. Dall'ufficio, turismo, ospitalità e spazzatura, Corigliano Calabro, una terra da amare. Amici, per questa volta è tutto. Ci rivediamo al prossimo servizio e naturalmente vi invito a venire a visitare questo splendido scenario.